Signore e signori, buonasera e bentornati, io sono Lexi, questo è un canale sul quale mi piace portare spunti di riflessione sugli argomenti più disparati e oggi volevo tornare a parlare di disabilità, perché mi è venuta un'idea fantastica per un video, praticamente molto spesso quando affronto questo argomento con persone che non sono dell'ambiente, rimangono sorprese di tutte queste capacità che sembrano avere le persone disabili e che dopo danno adito anche a quella convinzione che se tu non riesci in qualcosa devi per forza avere qualche super senso dalle altre parti che ti consente di andare a recuperare quella disabilità. Questo fa sì che dopo io vado a fare video come quello in cui cercavo di spiegare che i disabili non sono supereroi e che tutte queste capacità sì possono essere sviluppate, ma vanno sviluppate con tantissimi sforzi, tantissima fatica e che non sono soprattutto scontate. Mi sono resa conto che però un problema è anche probabilmente il fatto che non si parla di queste questioni, per cui non si capisce neanche, a meno che non si sia dell'ambiente, come possano nascere tutte queste capacità straordinarie e soprattutto come una persona riesca a vivere una vita normale, pur magari partendo con delle difficoltà. e oggi volevo andare a fare un video che risponde un po' a questo tipo di domanda. Nello specifico ho fatto una serie in inglese, in realtà non ho mai fatto video italiano, in italiano ma c'è sempre una prima volta, in cui andavo a parlare e a far vedere soprattutto come una persona con disabilità visiva può muoversi all'interno di un'abitazione. Ecco oggi volevo farvi fare un giro della casa un po' particolare, non lo faccio sulla casa dove ero l'anno scorso, lo faccio nella casa dove sono quest'anno perché appunto l'anno scorso vi ho già fatto vedere tutta la casa, per cui non sarebbe così interessante. Quello che volevo fare è in realtà farvi prima raccontarvi com'è la mia casa e poi farvela vedere nel video per vedere se quello che riesco a farvi vedere a luci spente è poi la stessa cosa che siete andati ad intuire e se siete in grado di intuirla attraverso la mia descrizione rispetto a luci spente significa che poi non sono cose così impossibili per una persona da accogliere, quindi la capacità di muoversi all'interno di un ambiente, quindi spero di riuscire a fare buona figura e io inizierei. Siamo qui nel mio atrio, aspettate che prima magari spegniamo le luci e qui siamo appena entrati nel mio ingresso. Sulla sinistra ho tutte le mie giacche, sono un po' disordinata per cui mi è tante e sotto abbiamo un tappeto che è veramente comodo soprattutto in inverno quando si è tutto bagnato, qua per terra ho tutte le mie scarpe e procedendo sulla sinistra abbiamo gli interruttori perché adesso entriamo in bagno. Subito sulla sinistra abbiamo la doccia, poi abbiamo il dc, abbiamo un bidet e finestra che si aprile sia normale che bocca di lupo e che è abbastanza grande. Dopodiché abbiamo sulla parete di fronte al bidet uno specchio con il lavandino dove tengo praticamente tutte le mie cose perché sotto il lavandino c'è un armadietto che non vedete da nessuna parte, magari se vi inquadro adesso eccoci qua. Sotto qui c'è un armadietto dove tengo tutte le mie cose. Proseguendo qui abbiamo la lavatrice, sotto c'è anche un phon qua sopra, sopra la lavatrice abbiamo il phon e adesso andiamo e continuiamo questo tour. Attaccato alla lavatrice c'è la porta che si apre in direzione della lavatrice, quindi sulla sinistra, dietro la quale abbiamo il nostro termosifone con il mio capatoio e la mia giacca perché sono una persona disordinata e ovviamente la giacca tengo in bagno. Continuando, se seguite la parete sulla sinistra riusciamo ad entrare in quella che è la mia cucina. Adesso se riusciamo a sorvolare sul fatto che sono una persona disordinata, ma tanto lo sapete, abbiamo subito il microonde sulla sinistra. Proseguiamo, abbiamo il lavello anche qui, con chiaramente tutte le cose giù nel lavandino di cui sentite rumore. Sulla seconda parte del lavello c'è una piastra che può essere rimossa e che quindi mi fa sì che questo lavello diventi anche un piano su cui posso lavorare. Poi abbiamo il fuoco, che è una parte elettrico e una parte normale a gas. Diciamo che ho quattro copili, due grandi e due piccoli. Poi, proseguendo, abbiamo un tavolo su cui si può lavorare, sul quale c'è un primo computer con una o due sedi. Continuiamo seguendo il tavolo, arriviamo alla parete sempre sulla sinistra e, proseguendo, troviamo una serie di armadetti all'interno del quale, insomma, tengo un po' di tutto. Qua c'è il freezer sopra e sotto il freezer abbiamo il frigorifero. A questo punto noi ci stiamo trovando di fronte una bellissima finestra che da sull'esterno, quindi una porta finestra. E il panorama vale veramente. Rientrando, continuiamo. Opla, la videocamera chiaramente non ci vede più, noi siamo sulla sinistra, abbiamo un divano. Continuiamo sempre seguendo la parete e ritorniamo alla porta. Se continuiamo a seguire questa parete qua, arriviamo nella camera. Il paletto, quindi sempre qua sulla sinistra la porta. Qui sotto abbiamo il mio comodino, abbiamo un letto, abbiamo un casino della sottoscritta sui comodini, poi finestra, sulla parete di fronte alla porta. Ci giriamo di nuovo, abbiamo un'altra parete con un tavolino piccolino, questo da una persona sola, praticamente, su cui penso dovesse starci una tv, perché qua ci sono delle prese. Poi abbiamo un armadio, uno e un'unica armadio dove ci possono mettere le cose. E a questo punto noi spegniamo la luce, sopra la luce c'è anche il, come si chiama? Quello per il riscaldamento, l'interruttore del riscaldamento del termostato, che fa sì che noi ritorniamo nuovamente nel nostro ingresso, dove troviamo un altro armadio. Quindi sostanzialmente è una casa composta da tre stanze. Entrando dalla porta avete sulla sinistra il bagno, di fronte sulla destra la camera da letto, di fronte sulla sinistra la cucina. Dalla cucina si può accedere al terrazzo e questo è quanto. Adesso vediamo se avete indovinato e se avete intuito come potesse essere orientata e in generale come sia la mia casa. Con questo io vado a concludere, spero che il video vi sia piaciuto, se non vi è piaciuto pollice in giù, se vi è piaciuto pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché, questo è un canale su cui affrontiamo gli argomenti più disparate. Fatemi sapere se avete qualche idea, qualche argomento che vi colpisce in maniera particolare o vi può interessare appunto sentire. Io con questo vado veramente a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno per il nuovo video e nel frattempo auguro a tutti. Una buona giornata. Grazie.